Comune e Coggesa corrono ripari per lo spazzamento dominicale, la guerra politica in atto all'interno della società partecipata continua a tenere con il fiato sospeso addetti ai lavori e cittadini per i possibili risvolti sul piano amministrativo e sull'erogazione dei servizi all'utenza, dopo la riduzione del secco e del vetro che ha creato non pochi problemi nei quartieri della città anche se non si è configurato una situazione emergenziale, la problematica che si era venuta a creare era quella dello spazzamento dominicale, con la rimodulazione del servizio per l'autoriduzione del PEF il rischio era quello di cancellare l'attività di pulizia dominicale con ovvie conseguenze per il decoro della città soprattutto per i postumi del sabato sera, l'after dei rifiuti avrebbe creato non pochi problemi alla quotidianità e all'immagine della città, per questo il Comune ha spinto per blindare il servizio e il Coggesa ha dovuto trovare la soluzione dell'ultimo minuto e la dimostrazione che Braccio di Ferro rischia davvero di creare un cortocircuito senza precedenti, la speranza è che prossimo 20 gennaio nel corso del controllo analogo la spaccatura possa rientrare con il confronto diretto tra sindaci e amministratore unico Gerardini che pure ha messo le dimissioni sul tavolo dopo la lettera e la diffida dei 41.